Salve a tutti e grazie e benvenuti, anzi ben tornati in un nuovissimo video Oggi io e Nico siamo qua a fare una sfida molto bella perché Jerry Lui è Jerry, lo conosci Jerry? Posso avvicinarmi a Jerry finalmente per favore? No, mi avvicino io a Jerry perché se ci avviciniamo parlerà con noi Guarda, è magia, mi avvicino e parla con noi E da quando sono entrato in questo mondo che voglio avvicinarmi Jerry ci dice, ho molta fame però non so cosa mangiare Portatemi più cibi possibili, chi ne porta di più sarà il vincitore Hai capito la sfida di oggi? Ma il cannibale mangia anche persone? Ogni cosa mangiabile, ogni cosa che tu su manca puoi mangiare e devi portare a Jerry Vai! Cioè? Non mangio a me, non sono mangiabile io Ah, chiaro Dico, prendi questa torta è considerata? No, quella è una cosa per Jerry e basta Non puoi toccarla questa, è bandita Capito, è famelico, va bene Certo, se pronto no Che cosa è successo? Avevo messo lì una cesta, il tempo è iniziato, forza, andiamo Ho capito, ma sei pronto? Fammi dire sì almeno No, pronto sì o no? Era un no No, non mi interessa Vabbè, devi prendere più cibi possibili, è facile, ok? Quindi qualsiasi cosa sia edibile Esatto, anche la carne marcia, anche tua sorella Mia sorella non è edibile, ma cotto crudo conta come due cose diverse Esatto, sì, sono due item diversi, quindi devi portare più item possibili diversi Sì, è chiaro, è chiaro, è chiaro, è tutto chiaro Però questo villaggio non hai le coltivazioni, vorrei chiederti come mai Sì che c'è le coltivazioni, scusa Io le vedo Io ho preso soltanto le Ah, qua ho delle carote, delle patate Non ci sto debito Scusa, prendo in preso un paio di cose Poi ti faccio sapere Ah, perché mi picchi? Però qua c'è qualcos'altro, effettivamente Qua su una sputata si mangia? Sì Oh, che culo, dai, l'hai trovata davvero Che si mangia Sì Che fortuna Oh, hai capito Mi crafto dopo tutto alla fine io Sì? Sì, tutto alla fine crafto Abbiamo ancora bisogno di unico Ah, sì, ciao 15 minuti non sono tanti, eh Lo so Non so come ne fare tutto alla fine Devo pensarci Però sicuramente mi serve il carbone Vediamo il carbone E anche un po' di cobblestone Ah, ma che carbone Ma che carbone C'è la birch Vabbè, sì, però è più veloce il carbone Cioè, è più duraturo, diciamo Adesso è più veloce il carbone È più duraturo, non è più veloce, ok? È più duraturo, va bene? Sempre a scassare, ucavol Eh Pecora, piker, pecora, piker, piker Oh, pecora Il creeper non si mangia Cioè, almeno penso che non si mangi L'ape non si mangia Beh, in qualche video io l'ho mangiato, però, eh Aspetta, allora Però ovviamente pozioni E, eh Mushrooms E le pozioni Le suspicious stew Facciamo che ne vale solo uno per tipo, va bene? Ok Quindi devo destillare anche le pozioni Se faccio velocità e poison Sono due diversi? No, è solo una Cioè, una Ok La pozione vale come una Tutte le pozioni vale come una Io non mi ricordo come si chiama la suspicious stew, però Eh, funghi E poi ci sono anche I fiori Bene Io sono qua in questo posto adesso Devo cercare Una forma di vita Che non trovo Non vedo forma di vita Io ho già trovato un paio Proprio quelle che mi servivano Che forme di vita ha trovato unico? E, eh, uno zombie foidi Ah Zombie No, io non volevo i zombie Io volevo dei pesci Questo buono Questo molto buono Mi serve per dopo Ciao zombie Do, 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 l'elita che sto baggando Pure mia sorella Tu hai keep inventory in casa? Certo Che c'è keep inventory Molto bene Molto bene Uh, funghi, funghi, funghi Però c'è il nè Di apri funghi Non so se prenderli qua direttamente Ma ve li prendo Già che ci sono Ok, una creatura trovata Mi serve l'altra adesso Io in teoria Se faccio così, no Dovrei veloci dare tutto il processo Di alfabetizzazione Sei La stai facendo Ah, posso Che stai facendo cresce Scusa La caca Dai, che con gli stelitrami Si bagga in acqua Che fastidio Non, perché tu hai fatto Non sto capendo C'erano l'ebell Io non mi ricordo Come si fa una cosa Su minecraft La torta? Ah, quella prescide Non me lo ricordo È facile Non credo neanche che la farò Beh, potrebbe servire Potrebbe essere molto utile però Torta di zucca Io non vedo come si facciano queste cose Abbiamo il caso Del libro di minecraft apposta Che ci come si fanno tutte le robe Beh, non è per quello In realtà Su minecraft non devi fare il cibo Non è un gioco di cucina Anche Cioè, devi anche cucinare Non è che torte ci sono Le fai Devo trovare una barca Devo trovare una barca Una barca Ma che gioco stai giocando? Uh, il portale è abbandonato Questo è buonissimo Dimmi chi c'è la mela d'oro Ti prego Me la d'oro Non ci credo Che fortuna Le scubos Le scubos Yes, le scubo Ma in quel caso Me la d'oro e me la op Non succederà mai Però contano con due cose diverse Ovvio che ho contato due cose diverse Su due temi diversi L'ho accaduto ormai Che non ci sia più il portale del nether Come? Perché non c'è più? Hai rotto un blocco di fianco? No L'hai rotto? Rimettilo Non l'hai rotto Allora, non può sparire da solo Non può sparire da solo Non può sparire da solo E poi è tornato aereo Sobo Alla divinità che ha fatto un po' di cose qua Ok? E cuoce un po' di cose Non possiamo rubarci oggetti ovviamente Quindi allontanti a me E chi ha marcato il territorio? Io sono tipo i cani Ho presciato sullo spawn Qualsiasi cesta Mettere lo spawn è mia Non ho Ma la ci sono già due ceste lì Eh, mia Una mia testa No, no, no Una mia testa Quella cesta Mi hanno mi rompito Le scatole Testa Mia Non è tua Ok Ho tantissimo cibesso Dico Io hai presente No Cavolo Non ho presente Ho solo una cosa di pecora Non va bene questa roba Ma cosa ci fai? Ecco il bastione Pensi di davvero trovare una melopì? Era lì Ho detto Vabbè Eh, ma stai sprecando tempo Nico Ma al tempo è relativo No, il tempo è denaro Io non so Se io faccio così E faccio così Suspuiso Suspuiso Ce l'abbiamo Buono Mette via tutte queste cose Anche questo che è cotto Dobbiamo cuocere altre cose Quindi questo ce l'ho Questo ce l'ho C'è l'otto È poco il tempo Nico Eh, ho notato Ho notato Poi devo cuocere anche quelle alghe Cosa c'è troppe cose Nico Non so più cosa fare la mia vita Io non mi ricordo cosa si mangia Cosa non si mangia Pensate Eh, cosa si mangia una fortezza? Niente La fortezza non si mangia Niente? Non penso Boh Non so se si mangia qualcosa a fortezza Sinceramente Carne marcia o messa Mi serve una gallina Serve un uovo di gallina Vabbè, non cagare mai una gallina Deve cagare Sennò la faccio cagare io No No, non lo voglio sapere Perché quando mi vede altamente paura Che si caga dosso Semplicemente Ah, pensavo che gli stimolassi la cacca Vabbè Allora Basta vedere un tuo video per questo Aspetta ho dimenticato di cuocere la patata Cuociti patata Ok I gasti si mangiano I gasti non si mangiano Ma perché si deve Nel trasportare a tempo te Sto cercando un oggetto Che oggetto è? I funghi Non so Io ho già preso i funghi Per chi mi hai preso Allora, tu stai prendendo nel nether Scusa Mi serve però del ferro Eccolo E finalmente Cos'hai trovato? Scusa Te pareva l'ultimo abbiamo che mancasse Non sto capendo cosa tu abbia trovato È una cosa che spero mi dia Un oggetto in più rispetto a te Ucca a mucca trovata Il cavallo non si mangia Cioè Su Minecraft non si mangia No, no Non si mangia anche una vita reale Come no? No, no Perché? Perché io non No E tu non lo mangi Hai mai Hai mai mangiato il cervo? Sì È buono il cervo Il cavallo è tipo il counter Cosa vuol dire? Che non può Non lo posso mangiare Cioè Sei Cavallo vegano? Cioè Sei vegano il cavallo? No No Perché andavo a cavallo Mi dispiace Poi mangiare i cavalli Anch'io sono a cavallo per Un'ora L'ho smesso No Io un po' di più Eri bravo? Non ci voglio di cucinarle robe Veloco Facciamo che si autosmeltano No Le sto cucendo anch'io da prima Aspetta Qua c'è la cosa innevata Potrei ottenere qualcosa Qua c'è più Ci sono 27 polli Sei in nevada? Sì su in nevada Se questi polli non mi danno un uovo Non ha senso Dai cagate È un uovo Vi prego Quanto ci vuoi più o meno tu? Quasi una sciulca piena Arca puzzola Perché? Te no? E io no Eh mi spiace Un altro portale Un altro portale abbandonato Nico Ti prego ti prego Niente me lo pivo Troppo Potremmo indire le sweet berries Che dovrebbe essere Qua eccole qua Sweet berries Subito Buono Eppure quella Ma bella Quei c'è qua Nico Io sono avanti anni luce Rispetto a tutti Ok Questo butto Questo butto Questo butto Butto Non mi serve più niente Ok via Io adesso dovrei andare Nelle Sto zitto Vai tanto Viva Ceramente Chorus fruit Dai Vabbè È un punto in più Comunque Il magiale l'ho già preso Non mi ricordo Sono tutto lo spawn Senza coraggio Ok buono Ciao Jerry Sono tornato Devo andare un attimo Nel end Andiamo subito nel void E prendiamo il chorus Poi me ne vado Ma il morto Eh vabbè il morto Ma il drago è già morto È certo che è già morto il drago Cioè scoperte Devoce del drago Io Per poi del chorus fruit Magari sì Se mi troppo un tridente Al primo colpo Cosa guadagno Un punto e più È vero Sì Ma ci provo E anche questo Do prendere Che mo' dolore Dai non mi ha troppato niente Facendo un drone Con il tridente Stai spiegando A molto tempo così Ah un punto Se non troppo Però vabbè Ecco Immaginavo Ma di solito Culo con queste cose Di solito sì Oggi no Mi spiace Il glue squid si mangia? Mmm sì Davvero? Allora lo prendo subito L'acqua si beve? L'ampola d'acqua L'ampola d'acqua sì però Ma conta anche quella? Sì Se riesce a farla sì Però non penso di riuscire a farla io Per me non è molto corretta quella Oh polli Perché non è corretta? Vabbè No hai ragione Le pozioni si bevono Questo va qua Questo perché non si cuoce Mi sembra una mucca Mucca trovata mucca Devo infilarmi la mucca dove scusa? Ah Ok Perfetto È perché anche un po' Non ancora Quasi però Diamond salmon No un cod Eh quelli ho già presi Io non li trovo Ok mandri di polli Ho un minuto per farmi droppare Delle uova Come si chiama Un branco di polli Non so Lo stormo Troppatemi qualche uova Almeno una Almeno una che faccio La torta di zucca Almeno una Vi prego Dai che sto perdendo tempo Per l'amor del signore Ma cosa è che posso prendere ancora? Boh Ho finito il tempo Ho finito le idee Cagate Eh Voglio prendere un solo chaurus Non dico non cagare Non so Entrare nel coso Però Dico Il tempo È finito Torno a spoon Adesso No Prima vuoi entrare Nel coso Dico C'è il tuo Fammi entrare nel coso Non può entrare Non può prendere il chaurus Io invece sto entrando Non vale il tuo chaurus Sappi L'ho preso Non vale Io ormai l'ho preso Non vale C'è il tuo C'è il tuo quad quadro Posso rubare Non puoi rubare Avevi detto Che cavolo Dimmi Quante file hai Una Una sola Due Ok due E un po' Due e quanti oggetti E uno Anche io Anche io Anch'io 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 E sei Ho vinto Ho vinto Ma è uguale No il chaurus Non vale il chaurus Hai preso dopo il tempo Ma sì che vale Dai Io parlo molto tempo In caricamenti Dove hai preso il dito Scusa Erano letteralmente Lì Beh Ma Vabbè Comun E poi l'ho fatta Crescere col bomb meal Che ho preso nel nether Che non trovavo Ma ci sono i scherzo C'è una caverna gigante Qua sotto Ho capito Ma ci volete una vita Fare quei due stack Di bomb meal Due stack di bomb meal E' fatto E' buon blocco Ma quante dovevi Ci si arriva Alla zuppa Alla zuppa di bifur Eh ma ti servivano Sei billy truth Non è che se sei Un bot troppo Ragazzi Fatemi sapere i commenti Secondo voi A chi va La vittoria Perché Jerry Non mi sembra molto soddisfatto Jerry è soddisfatto La larga si mangia No Si che si mangia La larga No Si che si mangia Come non si mangia La larga Scusa Ti è scappato un pesce Non mi scrive È una sweet berries Ma poi tra l'altro Ricordiamo che non c'era Il portale Dai valgo Il putale Non vale Ragazzi Fateci sapere i commenti Che non ci sono stati Ciao a tutti